amici cari amici amici buongiorno un brindisi alla vostra e alla mia salute come vedete sto preparando da mangiare ho deciso di preparare oggi melanzane cipolle un sugo cattolette bozzatello salatieri della gusto questo è quello che voglio mangiare l'acqua è pronta scusate che non va con l'acqua è pronta ecco qua mettiamo la metà mi sono messo in giro a soli bene mi sono messo in giro a soli ecco qua allora vediamo un progetto prendete un po' abbastanza io altrimenti devo sottopassare ecco qua costura 8 minuti allora eccoci qua un po' di sale scudiamo lo sale lo sale ce la faccio tutto ecco fatto qui mettiamo un po' di pepe pepe un po' di paprika un po' di paprika questo è sempre buono è stato di sabina un po' ehi ecco qua ecco qua andiamoci andiamoci e aspetto dopo mettiamo pure torrente torrente dopo l'acqua dopo l'acqua eccoci qua abbiamo fatto ci siamo usciti secondo me e noi non ho usciti come sempre a me quando venne usciti mi aveva già passato ecco e come vi dissi l'altra volta mia mamma quando faceva si cosa diceva come fare una ferma di incinto eh sarà giù una ferma di incinto ma io a me quando venne usciti mi aveva già passato la vita di questo è fatta di gioie eh e queste sono le gioie quando venne usciti facendo bastare senza problemi altrimenti che campare a fare eh la vita è dura e la vita sono più dolori che le gioie e allora quando venne quelle piccole siamo le piccole gioie pigliate a me eh e vivetele fino in fondo a dopo faccio il mio piatto come è bene amici 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 eccoci qua guardate che bellissimo guardate guardate che meraviglia eh la pasta è pronta ecco qua poi in ultimo mettiamo la mozzarella ecco ecco togliamo la pasta sempre nel modo tradizionale come si è sempre fatto poi il mio salame e il sal mi faceva il mio nonna e la mamma e la mia mangio il tagliere con la giornata non lo ricordo qua ma tutto questo un po' inizio ma è scoperto anche se per fare la tarota tutta cosa ecco qua e e le copiata ecco qua ecco qua ecco qua ecco qua ecco qua pezzi mi ha ripiatato invece cosa ci sono e io l'ho detto sempre quando volete venire a mangiare da me siete siete sempre graditi solo il vostro piacere della vostra allegria vada non è senza mascherine senza un impasto senza la vaccinazione liberi come siamo nati non può creare problemi e nemmeno da portare pensa a tutti gli cittadini ma non possiamo mangiare sei ben voluto accumulati siediti e mangiamo insieme mettiamo la mozzarella ecco qua ok E' mai capito, e come c'è? Capito? Della cucina capita. Avvicinati, eh? Ecco qua, si vede bene? Penso di sì. Eccoci qua. Allora, pronti per mangiare? Per l'immuglione. Allora, pronti per mangiare. Allora, pronti per mangiare. Allora, pronti per mangiare. Allora, pronti per mangiare. Allora, c'è avuto un grasso. Pogliamo un colpo. Sentivamo il colpo. Abbiamo passato il colpo. Abbiamo passato il colpo. Ho scassato tutto. Ho scassato tutto. Ho scassato tutto. Ah, sta fama che mi sono solato. È bello, eh? Amici cari. Buon appetito. Buona giornata ancora a tutti. E sempre, come dico spesso, con sincero affetto, un brindisi alla vostra e alla mia salute. Grazie.